Servono sinergia e scelte coraggiose, trasformando le difficoltà in opportunità. Così, Graziano Sabatini, confermato alla presidenza di Confartigianato Imprese di Ancona e Pesero Urbino, la rielezione è avvenuta nell'ambito del XVI Congresso dell'Associazione, che si è concluso ieri al termine di un percorso di confronto con le otto aree territoriali di riferimento. Sì, per me è una grande soddisfazione personale, sicuramente, e mi auguro un po' per tutto il gruppo che mi ha sostenuto e tutti i collaboratori di questa struttura con cui ho lavorato in maniera stretta e a stretto contatto. È sicuramente il segnale che abbiamo lavorato bene, è un segnale che abbiamo riscontrato anche negli incontri sul territorio, molto seguiti, abbiamo incontrato oltre circa 2000 artigiani, forse anche qualcosa di più, e con questi ci siamo confrontati per creare appunto questa, diciamo, lista di valori e di priorità da poter presentare sia alle autorità regionali, ma anche alla nostra associazione nazionale. Nella campagna d'ascolto, ha proseguito Sabatini, è emersa una grande voglia di fare e di reagire da parte degli artigiani, ma anche la consapevolezza della necessità di adeguarsi attraverso l'innovazione tecnologica e digitale. D'altra parte, sono emerse le criticità, come gli aumenti dei costi energetici, il continuo cambio delle normative e le difficoltà nel reperimento della mano d'opera. Dobbiamo fare squadra, poi ha aggiunto il presidente nazionale Marco Granelli, e puntare sulla prossimità territoriale per trovare soluzioni nuove, condivise ed efficaci. Dobbiamo essere protagonisti nel cambiamento, ha detto, e costruttori di futuro. Io credo che questa sia la sfida da vincere e da portare avanti. Credo che oggi l'artigianato, l'artigiano, rappresenti la combinazione di tre dinamiche. Il desiderio delle persone di far parte delle comunità locali, il valore di un'innovazione aperta, e anche una produzione che sia consapevole e più attenta all'ambiente. Ecco, io credo che queste siano le direttrici su cui occorre muoverci per partecipare ad una ripartenza di tutto il comparto economico, ma anche del nostro paese. Particolarmente intenso anche l'intervento di Federico Quaranta, volto di Linea Verde Start, la trasmissione voluta proprio dall'associazione per raccontare le realtà artigiane e regionali. Tutelare questo comparto, ha fermato il conduttore, vuol dire salvare il nostro paese. Bisogna contare e puntare sui valori. È l'unica cosa che ci può portare fuori dalla crisi, qualunque essa sia, non solo quella umanitaria legata alla guerra, o quella economica, o quella ambientale. Proprio rimettere al centro di ogni dialogo, di ogni discorso, l'essere umano. Io credo che il lavoro dell'artigiano sia fondante per l'identità, anzi per le varie identità di questo paese, perché l'Italia ne ha molteplici. In molti dicono identità, ciò che è identico, in realtà è sbagliato, è ciò che è profondamente radicato. E più che il lavoro artigiano che passa di padre in figlio, di maestro in discepolo, non c'è di sensazionale. Proprio il valore artigiano è quello che rende unita l'Italia nella differenza delle proprie identità.